Con certi incontri e spettacoli della Notte Bianca del Vomero quest'anno portano un segno nuovo, quello della legalità. Un tema scelto per ispirare gli eventi che sabato prossimo in tutta l'area collinare caratterizzeranno la manifestazione con iniziative a tema, per mettere in luce e alla luce della notte i segnali positivi contro la criminalità. Parteciperanno come sempre cittadini, negozi e librerie, ma anche tutte le scuole della municipalità in una grande isola pedonale raggiungibile con metropolitane e funicolare. Abbiamo voglia anche di lanciare con messaggi semplici un valore positivo. La nostra città si deve distinguere per queste caratteristiche e lo facciamo con le scuole, con le parrocchie, con gli opinion leaders, lo facciamo con tutto quello che siamo riusciti a trasformare in questa fase delicata per il quartiere collinare e per l'intera città. Il Vomero fino a qualche mese fa era indicato il luogo dove le librerie scomparivano, oggi si sono quadruplicate, centri di cultura enormi che noi vogliamo mettere a disposizione. I cittadini e gli imprenditori passano da quella che è la paura invece alla parola, all'assunzione diretta di una responsabilità e un rapporto di fiducia con le forze dell'ordine e con la magistratura. Sono quei segnali positivi di cui parliamo nell'iniziativa e che vogliamo che si diffondano in tutto il territorio cittadino. Illegalità e cultura, festa, allegria ma anche impegno civile. Vomero e Arenella, un grande impegno del comune, della municipalità, delle associazioni, dei commercianti, degli operatori economici, delle scuole. Grandissimo impegno delle scuole, insomma iniziative poi non solo di sere e di notte ma dalla mattina fino a notte. Un grande sforzo delle nostre società partecipate, trasporto pubblico, Asia. Penso sarà una giornata di grande partecipazione popolare, anche di grande vivacità culturale, economica, commerciale, parlando anche di argomenti sui quali siamo quotidianamente impegnati, quelli della legalità e della sicurezza e della lotta al crimine.